uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi fort bite numero 60 bisogna andare ad happy hamlet a borgo allegro ed utilizzare l'emote del cartello lo vedete ragazzi proprio nel ristorante gongolo grufolo che è quello con il maialone io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel like iscrivetevi al channel noi ci vediamo fra poco in live ciao